Tra le tante iniziative che la vostra amministrazione è guidata dal sindaco Cremona, anche con il suo aiuto, c'è stata l'inaugurazione di un museo, un evento sicuramente interessante, se ce ne parla. Sì, lo scorso 10 luglio c'è stato il Consiglio Comunale, presieduto dal dottore Francesco Riolo, che ha deliberato l'istituzionalizzazione del Museo Civico della Città di Naro, nella sede dell'ex ospedale San Rocco, il Palazzo Malfitano. Sono felice ed entusiasta che la mia proposta abbia avuto subito il consenso positivo da parte del sindaco, il dottore Calogero Cremona, della Giunta e dei consiglieri di maggioranza. Ritengo che sia un passo fondamentale per la conservazione, l'esposizione e la fruizione delle sue collezioni, ma soprattutto anche delle nuove sezioni che intentiamo aprire. Attualmente il museo ospita al suo interno la mostra permanente dell'arte grafica e tra le opere vi sono nove tavole originali da incisione, risalenti al 600, al 700 e all'800. Tra cui, degni di nota, è bene ricordare le tavole di Rembrandt, di Goya, Doré, Pinelli e le opere di artisti famosi come Bruno Caruso e Renato Guttuso. Come ben sapete, Naro è la capitale del barocco agrigentino. Vanta un ricchissimo patrimonio artistico, storico, culturale che affonta le sue radici nella pre-storia. Il museo civico della città di Naro costituisce il principale polo di salvaguardia e di documentazione della realtà territoriale e incrementa attività culturali a servizio del comune e promuove la valorizzazione turistica del territorio. L'istituzionalizzazione consentirà alla nostra struttura di entrare a far parte della rete museale regionale e nazionale.